ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi seminiamo il mais e ne metteremo queste 12 ne metteremo una due tre quattro cinque e sei così e poi un'altra fila di qua una due tre quattro cinque e sei così e qua facciamo magari un canaletto di scolo quando le bagni poi l'acqua e niente le mettiamo qui ho già il vaso come vedete sono 12 e non so se cioè le porterò al podere e però abbiamo già quelle in realtà da portare al podere quelle lì che sono mais e lì se non avete visto il video precedente andate da vedere che abbiamo piantato trapiantato una piantina di pomodoro e una già grande in un vaso grosso che la tengo qui e poi li metteremo il bastone e la poteremo e vi farò vedere passo per passo come si fa e intorno abbiamo messo anche i ravanelli questi qui oddio non ho buttato la confezione comunque e quelli con la punta bianca punta bianca li abbiamo messi intorno e adesso mettiamo il loro allora semplicissimo uno due tre quattro e cinque ne mettiamo dieci perché non ci stanno tutti dodici di uno due tre quattro cinque anche un altro metodo il primo era fare il buco poi mettere il semino e copri un altro invece è posizionare il semino dove lo vuoi mettere e lo spingi giù e poi copri due tre quattro cinque magari prendo i migliori quelli in buono stato quattro e cinque ok adesso con la terra che abbiamo centro copriamo sopra così e anche dall'altro lato e come vi avevo detto c'è il canaletto in mezzo schiaccio un po' il canaletto ed ecco fatto e qua nasceranno cinque e cinque piantine che poi fino al cielo no vabbè fino al cielo no queste altre due le mettiamo qui e vediamo ok adesso bagno e alla prossima ciao